Iti Roberto su Facebook. 18 giugno 2017. Ecco ciò che MyListat certifica. Busta paga di un commesso di quarto livello anno 1975. Presso magazzini Giglio di Firenze. Paga base lire uguale 159,060 uguale euro 60 circa. Contingenza uguale lire 58,464 uguale euro 29 circa. Contratto provinciale uguale lire 26,500 uguale 13 euro circa. Incentivo uguale lire 32,000 uguale euro 15 euro circa. Totale competenze uguale lire 276,024 uguale euro 135 circa. Ritenute. Inps più inamo uguale lire 18,689 uguale euro 9 circa. Irpefnetta uguale lire 12,854 uguale euro 6 circa. Contributo sindacale uguale lire 1,092 uguale euro 0,50 circa. Totale ritenute uguale lire 32,635 uguale euro 16 circa. Neto in busta paga uguale lire 243,389 uguale euro 170,00 circa. Affitto appartamento di 80 metri quadrati 40.000 lire uguale 20 euro circa. Anno 30 settembre 2016. Commessa di quarto livello a mondo convenienza. Paga base uguale euro 1327. Ritenute. Contributi inps uguale euro 185. Irpef al netto delle detrazioni per la progressività e per il figlio, euro 218,80 euro di bonus uguale 138. Totale ritenute uguale euro 323. Neto in busta paga uguale euro 1,004. Differenze, anno 1975. Neto in busta paga uguale euro 135 circa. Anno 2016. Neto in busta paga uguale euro 1,004. Più sei volte. Anno 1975. Irpef netta 8 euro circa. Anno 2016. Irpef netta uguale euro 138. Più 23 volte. Anno 1975. Inps più inam, sanità, uguale euro 9 euro circa. Anno 2016. Inps uguale euro 185, per la sanità si pagano i ticket. 21 volte circa. Nel 1975 per l'affitto bastavano 40.000 lire, il 15% dello stipendio, pari a 20 euro circa. Nel 2016, per lo stesso appartamento, l'affitto è di euro 1000 e occorre uno stipendio. Più 50 volte. Il neto in busta paga è aumentato di 8 volte e l'affitto di 50 volte. Così tutti i prezzi di prima necessità. Nel 1975 per l'affitto bastava il 15% di uno stipendio. Nel 2016 occorre un intero stipendio. L'Irpef è aumentata di 23 volte e si pagano i ticket per la sanità. L'Inps è aumentata di 21 volte. Come potevamo non finire in recessione con questa colossale riduzione del potere d'acquisto del monte salari, stipendi e pensioni di circa 30 milioni di persone?